Dopo il capo di San Desiderio per 3-2, l'ampica sassa di Mr. Corr si vuole rilanciarsi per trovare nuovamente i tre punti che gli consentirebbero di mantenere la pole position nella partita contro la congornese di Mr. Basci Galupo che deve inseguire varie squadre per agganciare la salvezza ed evitare i play-out. Dopo 8 minuti sono gli ospiti ad essere i più pericolosi dopo una conclusione parata da Bernini. Al dodicesimo punizione di Donadeo la mette in mezzo e Manfredi schiaccia di testa per l'1-0 cogornese ma due a poco loro vantaggio perché rispondono subito dopo i padroni di casa con una punizione di Trocino che sorprendendo il partire pareggia i conti, partita cominciata su ritmi altissimi. Si attacca da una parte e dall'altra e 7 minuti più tardi Manfredi la mette nell'angolino da 25 metri. I rosso-blu sono nuovamente in vantaggio, vediamo rallentato il gol del numero 11. Azione per possibile penalty dopo che Mazzini tampona fossa ma l'arbitro non fischia e lascia proseguire. Pallone avvio, se la sposta sul destro calcia e sulla ribattuta Lampi non concretizza. Al termine della prima fase di gioco Mollinelli ci prova dal limite, pallone rispinto e poi Larizza viene colto in posizione di offside. Nel secondo tempo arrivano Spioventa in area Ampi, Bernini tenta la presa, gli scivola dalle mani e Manfredi segna il gol di Arapina, tripletta personale per lui ma disattenzione incredibile del portiere locale. Sulla sinistra galoppa Branca, entra in area, viene steso e stavolta Gorlero d'Imperia non ha dubbi e fischia il calcio di rigore. Vio è pronto dal discretto, va col destro ma fallisce l'occasione per accorciare le distanze perché il numero 1 della Cogornese lo ipnotizza e gli nega la gioia del gol. Minuto 68, Vio mette in mezzo un buon pallone e trocino in sacca per il 2 a 3. Pallone per Merlo, lanciato a rete, va col destro ma Bernini risponde volendosi riscattare. Partita molto accesa, ricca di ribaltamenti con Lampi che ce la mette tutta per pareggiarla e che lotta fino all'ultimo minuto con svariate conclusioni. L'ultima, la più importante, con il neo entrato ferrante che non concretizza. Game over al 25 aprile, Lampi a sorpresa perde in casa contro una grintosa Cogornese, Biancorossi superati dalla nuova capolista voltese, prossima avversaria.